Ormai la consigliatura in provincia di Caserta volge al termine. Qual è il suo giudizio su questi anni di attività politica e amministrativa? Se si può parlare di attività politica e amministrativa, comunque il mio giudizio è estremamente negativo. Non è un pregiudizio, una presa di posizione perché dal primo momento dell'insediamento di Zinzi credo di aver caratterizzato la mia azione amministrativa e politica come oppositore. Lo dicono i fatti. Vorrei attirare la vostra attenzione di chi ci segue, innanzitutto sulle competenze ordinarie della provincia, scuola, viabilità e urbanistica. Cosa è stato realizzato? Nulla. Basti vedere la condizione della viabilità, verificare altresì gli interventi e le politiche scolastiche. L'unica cosa che è stata fatta è quella che sono stati aumentati i contratti e quindi i fitti passivi. Stiamo all'incirca 6 milioni di fitti passivi per gli istituti scolastici di competenza provinciale, i quali quasi tutti, siamo nell'ordine del 94-95%, sono privi della certificazione etonia da un punto di vista dell'agibilità stessa. E' meraviglia come da veri criminali, e mi riferisco all'apparato burocratico e amministrativo anche di chi è titolare delle deleghe e quindi di chi ha la massima responsabilità della provincia, il Presidente Zin, abbia fatto aprire le scuole. Basti leggere la quotidianità che assistiamo rispetto alla vicenda scolastica e vediamo scuole veramente a rischio. C'è un caso proprio di questi giorni, addirittura San Cipriano, scuola nel degrado, risposta quasi sconvolgente dalla provincia, non ci sono i fondi, parliamo di poche migliaia di euro per risolvere il problema. E' un problema proprio di sicurezza, non c'è la certificazione dovata alla preside o al preside, non ricordo bene, ti ho avuto il coraggio di giudere, di fare la chiusura e attendere la certificazione, cosa che non hanno fatto gli altri dirigenti scolastici e si stanno assumendo una grossa responsabilità. Ripeto, gli istituti provinciali non hanno la certificazione idonea sotto l'aspetto della sicurezza per aprire, cosa da me denunciata nel mese di settembre a tutta l'autorità, dalla Corte Conta, alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco, alla stessa provincia, alla Procura, alla Repubblica, al Tribunale. E mi meraviglio come si facciano in merito passi da formica, perché è una situazione veramente molto pericolosa. Ma il problema scolastico non è solo questo, quello della mancanza della certificazione, e altresia la mancanza dei suppellettini. Mi pare che a Maddaloni vi è stata una protesta molto intelligente, con grande classe, a parte un preside che i primi giorni, le prime settimane, ha tenuto l'appello delle varie classi nel cortile, perché non avevano nemmeno i banchi dove sedersi e parlare d'altro. Giustificare da parte della provincia che mancano i fondi per poche manutenzioni, che possano mettere le scuole nelle condizioni dignitosamente di poter operare, e chi vi opera all'interno, i docenti, i dirigenti, ma soprattutto gli alunni, che mancano dei fondi è una cosa vergognosa, perché qui agganciamo all'altra vicenda, all'aspetto economico e finanziario. Zinzi ha distrutto le casse della provincia. Se è vero come è vero che nell'ultimo consiglio provinciale è stato dichiarato di fatto il dissesto che hanno mascherato come un piano di riequilibrio settennale. Cioè la provincia è impegnata per sette anni a restituire, a riequilibrare il bilancio in sette anni per diversi svarati milioni di euro che sono usciti fuori per ore, che sono 4-5. Me ne saranno ben altri. Si giustifica ciò perché la carenza di trasferimento da parte del... Zinzi ha questo vizio infantile, infantile, di giustificare e di tirare in ballo su delle responsabilità che sono su una volta la regione quando non si realizza una cosa, una volta il governo centrale. Ma gli altri comuni, le altre province come me hanno fatto. Basti pensare che abbiamo ancora un direttore regionale che prenda la bellezza di 20.000 euro al mese, in media più o meno, sì, su 230-240.000 euro, quando quei fondi potrebbero essere destinati anche a piccole manutenzioni. Oppure avere sempre i stessi consulenti come il professore Spasiani che si è pappato la bellezza di centinaia di migliaia di euro per tutta una serie di intrecci personali, di amicizzi personali anche con l'apparato, non sto dicendo nulla di illegale, ma sto denunciando comunque un stato di fatto clientelare. Oppure servirsi all'esterno smantellando un ufficio legale all'altezza, all'avanguardia, al livello provinciale e provvedendo altresì a centinaia di incarichi esterni per una risposta solo clientelare, sperando in due anni, 2013-2014, circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro all'esterno quando c'erano professionalità e potenzialità all'interno su cui investire. Da ciò viene fuori il mio giudizio estremamente negativo, sulle competenze ordinarie. La questione urbanistica è demandata uno strumento in occasione delle elezioni politiche due anni fa per approvare o sospendere il piano di capo, per approvare o sospendere il piano di legale, per approvare o sospendere o bocciare il piano torta di Adela, cioè dare un giudizio, è un giudizio obbligatore ma non vingolante sotto l'aspetto urbanistico, per non parlare di San Brisco. Piani congelati, terminano le elezioni, alcuni di questi sindaci ateriscono e sostengono il figliuolo candidato e dopo di che viene fuori un giudizio negativo, si mette in discussione e si apre una serie di condizioni. Queste sono le competenze ordinarie, per non parlare poi delle bandiere elettorali, degli slogan elettorali del signor Presidente Zinzi relativamente all'aeroporto internazionale di Grazienzo, in cui non ha parlato più, sulla caserta Benevente che fece una conferenza stampa, non parliamo della vicenda, dei rifiuti, poi si mette come un grande indossatore, si prende un vestito nuovo e se ne va, poi quando c'è qualche intervento di bonifica ambientale, come qualche giorno fa sulla provinciale Casa Pesina San Cipriano e si mette in prima fila con i lavori, in prima linea. Devo dire la verità che l'ho venuto molto bene, più come capocantiere, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e delle bonifiche come Presidente della provincia. Lei ha acceso i riflettori anche su un'altra questione, la società terra di lavoro, sta avendo dai cittadini molte sollecitazioni, ci spiega che cosa sta succedendo? Innanzitutto la società terra di lavoro, stranamente, dopo che ha provveduto a fare una serie di assunzioni esterne, e guarda caso di alcuni anche che erano parte integrante dello staff di Zinzi, quando si sono integrati, mi riferisco a un architetto. Sta procedendo, secondo me, in modo selvaggio, poco urbano in questi giorni, a mandare delle note e a fare delle verifiche a casa delle persone per la sicurezza delle caldaie. Non mi pare che a livello regolamentare debba essere questo il passaggio, ritengo ciò un atto di grande abuso e del giro nei confronti delle autorità competenti, e soprattutto al solo scopo di incamerare un bel po' di soldine, di fondi a livello provinciale, perché anche questa società che era nata con intenti nobili è diventata un carruzzone, una mucca da cui attingere latte clientelare, c'è diventato come tutti i carrozzoni che purtroppo a livello pubblico si sono dimostrati fino a fine ad oggi. La stessa cosa, dicasi, per la Gisec, lasciamo morire a loro destino, poveri dipendenti, al vecchio consorzio di Bacino, in Napoli-Caserta, senza prospettive, e poi si fanno assunzioni nuove con questa società provinciale. Assunzioni mi sembra veramente un paradosso, ma più di tutto mi sembra un paradosso che tutto ciò che sto dicendo è stata denunciata nei confronti dell'autorità competente, è stata fatta anche in merito a un'indagine molto oculata e dettagliata a parte della Quarta di Finanza di Caserta, però francamente non auguro il male a nessuno, ma credo che siccome vi siano delle grosse illegittimità, degli sperperi, delle assunzioni clientelare, delle spese di viaggi inutili e non giustificate, basti pensare alla scuola, insomma. La vicenda della scuola è stata da me denunciata a settembre, non ho avuto ancora fino ad oggi nessun riscontro, né dai vigili del fuoco, né da parte della Prefettura, né della Corte dei Conti, né soprattutto da parte della Procura. E lì è chiaro, c'è una nota del dirigente Madonna che dice che gli istituti scolazzi sono primi della certificazione di agibilità.